Chiara Ferragni è tornata a casa a Milano dopo un breve soggiorno a Firenze, con i suoi adorati figli, Leone e Vittoria. Mentre scendeva dall'auto, una dolce sorpresa l'attendeva, il suo affettuoso cane Paloma, ansioso di riabbracciarla. Paloma le ha dimostrato tutto il suo affetto con festose leccate e salti di gioia. Tuttavia, c'era un cambiamento evidente nell'atteggiamento di Paloma. Sembrava essere più tranquilla e serena. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che Fedez, il marito di Chiara, non era presente al momento del ritorno. Forse Paloma avverte la mancanza del suo padrone, quando non è in casa, dimostrando un legame speciale tra lei e Chiara. La famiglia Ferragni sembra essere unita anche dai loro fedeli amici a quattro zampe. Grazie. 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 Grazie.